Utthita Parsvakonasana, angolo laterale esteso. Partendo da Tadasana, inspirate con un saltello di varicate le gambe di circa un metro e mezzo. Le braccia sono tese come Triconasana. Rotate il piede sinistro di 15 gradi all'interno e la gamba destra di 90 gradi all'esterno. Allineate i piedi. Con un'espirazione piegate la gamba destra ad angolo retto, flettete lateralmente il busto in direzione della gamba e poggiate la mano destra accanto all'esterno del piede destro, con le dita puntate nello stesso verso delle dita del piede. Tendete il braccio destro e allungate il sinistro verso l'alto. Mentre scendete, distribuite il peso sulla parte esterna del piede sinistro e sul tallone destro. Premete la coscia e il braccio destro l'uno sull'altra, per favorire la rotazione del busto e tenere il ginocchio in linea con l'anca. Portate la gamba perpendicolare al suolo, con il ginocchio allineato alla caviglia. Tendete il muscolo del polpaccio, abbassate la coscia e tenendola morbida portatela parallela al suolo. Inspirate ed espirate due o tre volte. Allungate il braccio sinistro sopra la testa, con la palma della mano rivolta verso il basso e la parte superiore del braccio sopra l'orecchio. Allungate il busto e avvicinatelo alla gamba piegata, spingendo la parte alta della coscia e il bacino verso l'articolazione dell'anca. Portate avanti tutta la parte destra del busto, spingendo la sinistra indietro. Allungate verso destra le anche e il torace, quanto più potete. Sentite l'allungamento sulla linea che va dall'esterno della caviglia sinistra alla punta delle dita della mano sinistra. Tenete la testa in linea con la spina dorsale, spingendola leggermente all'indietro. Mantenete la posizione per 20-30 secondi, respirando con ritmo uniforme. Inspirate, raddrizzate la gamba destra e salite. Tornate in posizione.